E' stato emozionante perché durante il lockdown la palestra ci è mancata molto, erano diventati degli argomenti molto distanti, quasi astratti. Si ci sentiva quasi ridicoli a parlarne, avevamo una grande amarezza dovuta al fatto che la squadra era lanciata, avremmo voluto serenità, avremmo voluto vivere una normalità fatta di sport per vedere come andava a finire. Ci ritrovavamo contemporaneamente sopraffatti dai fatti di attualità, quindi dal fatto che effettivamente la vita poi è un'altra roba. Poter tornare in palestra è stata una gioia incredibile, con un gruppo nuovo, una spruzzata di normalità, ma specie in un posto come Montecchio dove il Covid si è fatto sentire, poter riuscire a iniziare a fare pallavolo e dare un messaggio anche positivo alla gente, è stato bello. Non si è concluso il campionato di B1, si rinizia il campionato di Serie A2. Sì, abbiamo fatto questa scelta in un periodo in cui tutte le altre squadre puntano un po' a risparmiare, a mantenere le posizioni, noi abbiamo voluto investire perché ci sembrava che il lavoro dell'anno scorso lo meritasse come finalizzazione. Ho alzato un po' l'asticella, ma questo volere era nato prima del Covid e non mi sono voluto tirare indietro. Con sacrifici, con voglia e volontà percorriamo questo percorso. Un'ultimissima cosa è quella che può riguardare il pubblico, sperando poi di rivedere il palazzetto pieno. Quest'anno c'erano i presupposti per riempirlo, però purtroppo questa situazione ci penalizza un po'. Mi sarebbe piaciuto molto vedere le gradinate piene di spettatori, di supporto e quant'altro. Quindi, però, accettiamo anche questa disposizione che comunque tutela la salute di tutti. È veramente per noi un grande orgoglio, un grande orgoglio perché nello sport, nelle diverse discipline femminili e maschili, sono migliaia e migliaia di ragazzi e di ragazze che fanno attività sportiva, che fa bene alla salute, che mantiene in forma e poi una giusta ambizione, una giusta ambizione di questa azienda, di questa squadra che punta ad essere leader nella 2 per poi puntare magari il prossimo anno, i prossimi anni alla 1. Quindi per noi veramente siamo orgogliosi, siamo convinti che Vallefoglia possa portare fortuna. Io di solito ho giocato quasi tutte le partite della mia vita, ero quasi sempre vinte, quindi spero di portare fortuna anche a Megabox, a questa squadra che mi pare abbia tutte le carte in regola per giocare tutte le partite con successo.